Rai, cancellata l'amata serie TV. La Rai Radiotelevisione Italiana Spa, spesso identificata semplicemente come Rai, è l'entità detentrice dell'esclusiva del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva in Italia. Si posiziona come il principale nucleo televisivo in Italia e una delle più imponenti imprese di comunicazione dell'Europa, classificandosi come il quinto conglomerato televisivo del continente. Si è recentemente osservato che, nonostante la replica della prima stagione, la Rai ha scelto di non produrre una seconda stagione di scomparsa, una nota e amata serie drammatica con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Nonostante il debutto sul piccolo schermo abbia riscosso grande successo, sembrerebbe che i telespettatori non avranno l'opportunità di vedere i nuovi episodi, come sottolineato anche da alcune testate giornalistiche. Infatti, nel programma della stagione televisiva Rai 2023-2024 non sono previsti nuovi episodi della serie. Alla luce della messa in onda delle repliche, molti avevano ipotizzato un imminente ritorno della serie, ma a quanto pare ciò non accadrà. Numerose persone su internet hanno già manifestato la loro insoddisfazione per la decisione della Rai, anche se non è escluso che si possa avviare la produzione in un secondo momento. Sebbene attualmente non sembri esserci un prosieguo per le puntate di scomparsa, i telespettatori potranno comunque vedere Vanessa Incontrada su Canale 5, nei panni di Fosca e Innocenti in un altro celebre progetto dell'attrice italo-spagnola. Contemporaneamente, Giuseppe Zeno continuerà a essere un personaggio centrale su Rai 1 con Mina Settembre, in cui ritornerà a recitare accanto a Serena Rossi. Infine, si prevede il ritorno di altre fortunate serie come Mare fuori e Doc nelle tue mani. Se sei interessato a saperne di più su cosa accadrà nel mondo televisivo italiano, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Non perdere le ultime novità e resta sempre aggiornato sulle tue serie preferite. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!